Cari amiche e cari amici, c'è stato un intensivo venerdì, sabato e domenica dove sono venuti un po' da tutta Italia, ma in particolare stranamente dalle zone rosse e quindi dalla Lombardia e dal Veneto, i miei allievi di meditazione che venivano dalla Lombardia e dal Veneto erano almeno credo 13-14 persone. Normalmente poi finito l'intensivo alcuni devono ripartire immediatamente perché hanno il treno subito, altri si fermano un paio di giorni a Roma e aiutano nella distribuzione di cibo ai poveri e questa è una cosa di cui vado orgoglioso, non ne ho mai parlato perché credo che queste cose debbano rientrare in una sfera di discrezione, dove regna la discrezione. Però questa volta ne voglio parlare per un semplice fatto. Ho letto adesso sul nostro forum del Decimo Toro, che è privato, ha accesso solo il sangue, dunque i miei allievi di meditazione, che oggi la mensa dove i miei allievi consuetamente vanno a fare distribuzione di cibi a poveri è stata chiusa per il coronavirus. Io adesso veramente non so più che dire, la chiusura delle chiese, i cattolici senza ossia, gli sta bene così alla fine perché ci dovrebbe essere stata un'insurrezione. Invece no, va tutto bene, l'igiene al primo posto e questi poveri potrebbe capitare a chiunque di noi in un periodo di grave crisi come questo, di ritrovarsi povero. È capitato a tante persone che non se lo sarebbero mai aspettato. Questi sono proprio gli ultimi reietti, quelli che neanche votano e quindi ai quali i politici non dirigono le loro attenzioni. Posso capire tutto, ma adesso che ne vogliamo fare di questi poveri? Li gettiamo nei cassonetti? Ci accaniamo contro loro per il semplice fatto che esistano e quindi tutte le giustificazioni che volete, però mi è sembrato un grande atto di barbarie, quello di impedire ad alcuni fratelli e sorelle, ai miei aldievi, di fare la distribuzione di cibo ai poveri. Lo trovo un atto veramente di grande disumanità e inciviltà. Ho voluto semplicemente comunicarvi questa notizia perché bisogna mettere l'essere umano al primo posto, ancora prima di tutto. Ho ricordato in un video che San Francesco ha abbracciato un lebroso e li abbracciava, gli curava le ferite. Ancora adesso le piccole sorelle di ordine fondato da madre Teresa di Calcutta, cioè le sorelle della carità, curano i lebrosi senza la mascherina. Qui a Roma sono veramente delle eroine e nessuno ne parla, ma c'è una loro comunità che sta su uno dei colli di Roma dove vanno i barboni e loro se hanno dei parassiti li rilevano, se hanno delle ferite che li curano. Queste suorine non negano un bel bagno caldo, una doccia a nessuno. Forse dovremmo riflettere sul lavoro di queste suorine. Tanti sui siti cattolici stanno sempre lì a dire si sentono santi, si sentono santi, citazioni teologiche e così via. Molti anche sul canale, tra gli iscritti, sotto tanti video, sentivano i crociati, i guerrieri, lo spirito guerriero. E poi l'umanità si perde in un attimo, in un battibaleno. Basta un minimo di paura per far arretrare tutti, per far vivere i nostri fratelli come nemici. Avevo un appuntamento dal dentista tre giorni fa, è arrivato in ritardo di un quarto d'ora e quindi sono stato fermo sotto al portone ad aspettarlo e ero appoggiato al muro ed era impressionante, le strade semideserte, chi passava con la mascherina oppure si copriva con la sciarpa e quelli che rasentavano il muro, io ero appoggiato al muro, quando arrivavano a 15-20 metri da me, si vedeva proprio che si spostavano dalla parte opposta e poi mi guardavano con aria un po' atterrita e terrorizzata, magari pensando ma che ci sta a fare questo fermo qui, no? Ecco questo terrore che governo e stampa sono riusciti ad inculcare a tutti e che arriva a impedire la distribuzione di cibo ai poveri, vigliacchi, vigliacchi. Io ho sempre avuto un grande orgoglio dei miei allievi e di questi loro atti di volontariato, sempre non ho mai parlato sul decimo toro di questo, è la prima volta che ne parlo, ma i miei allievi sono veramente fantastici, hanno un cuore d'oro e veramente hanno messo la spiritualità al primo posto e quindi ecco prima ho parlato delle sorelle della carità, dell'ottimo lavoro che fanno i poveri e anche i miei allievi sono esseri dal grande cuore, dal grande cuore e li ringrazio tutti uno per uno, grazie di cuore, perché il decimo toro è questo, il decimo toro è questo e invece questa società impazzita è quella che nega un piatto di minestra calda a un poveraccio che dorme magari nelle estrazioni della metropolitana o sotto dei cartoni. Bene cari amici e cari amici, un pollice su per il mio lavoro, una riflessione, un pensiero positivo per questi poveretti e un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo